io fallo gacciato una boccia e ne avrei ancora 3 o 4 mio favore tiro al giuntane un disastro anche dopo questo non è facile sembra un campo di patate dopo questi filmati se qualcuno di me continua ancora a giocare a boccia c'è qualcosa che non va sembra un campo di patate guarda sembra verde guarda lì tirano l'aggiuntare ma siamo nella settima a spatarare Dio fa che brutta Luca niente da fare uno uno